arrivano a rete anche Perfect e Pepe leggermente discosto dall'ala invece Brutonio la macchina ha completato, la curva di sinistra adesso entra nella retta opposta alle tribune Autostart che prende velocità e stacca in questo istante lungo la corda Perfect Font all'esterno è veloce Parinaz tra i due Pepe Tav, Pepe Tav desiste e si accoda Perfect lascia sfilare Parinaz che con 200 iniziali in 13.8 è battistrada Perfect Font di rincalzo davanti a Pepe Tav poi Paride Plutonio a largo per Edil Baba il passaggio ai 200 in 13.8 il quarto iniziale va via in 30.8 ha ridotto drasticamente il ritmo Parinaz che porta a spasso la compagnia al passaggio di fronte alle tribune la segue Perfect davanti a Pepe poi Paride Plutonio e Peredil 47 per i primi 600 metri fila indiana quando si va lungo l'arco della penultima curva il primo a muovere le acque Paride lo segue Plutonio intanto Parinaz approda al paletto degli 800 iniziali in 1.3.5 Perfect sempre nella sua scia davanti a Pepe Tav Paride all'esterno si porta presso Plutonio chiude il gruppo per Edil Baba concorrenti che vanno al completamento del primo chilometro mille iniziali che Parinaz passa sul piede dell'1.19 scarso si è andati piuttosto piano nella prima parte di gara ora ovviamente il ritmo inizia a farsi selettivo Paride cerca l'aggancio a Parinaz che ha accelerato vediamo la retta opposta 14.2 qualche difficoltà all'imbocco della piegata per Parinaz Belle riesce però a tenerla bene in camminata Paride che prova l'aggancio in corda Perfect allargo Plutonio poi Pepe e Peredil la retta di arrivo Parinaz in vantaggio Paride che prova l'attacco Plutonio che scatta a centro pista Parinaz Paride Plutonio il varco per Perfect Font e le battute conclusive sul palo che arrivo erano solo 6 e in 4 sono finiti in linea bello bello questo arrivo e a questo punto beh rivediamola Perfect Plutonio Parinaz boh può darsi che sia così però aspettiamo di rivederla perché questione è fra i due tra Perfect e Plutonio mi sembra di poter dire però è un'impressione c'è anche da rivedere il filmato della corsa intanto esposto quindi il disco giallo attenzione c'è esposto il disco giallo eccolo finalmente ecco che suona anche la sirena Parinaz alla corda Perfect che cerca disperatamente un varco all'esterno di Perfect Paride e al centro pista Plutonio potrebbe essere Perfect da questa immagine però attenzione ci sono 3 cavalli in linea e un bel disco giallo quindi tutta da vedere l'arrivo di questa quarta corsa del convegno premio Marcello Baldi per quanto riguarda il tempo al chilometro io ho 2 0 1 e 7 1 15 e 9 il riferimento ufficiale